Da giugno Linux Magazine si rinnova. Nuove rubriche, nuovi approfondimenti, stesso stile, stessi temi. Trovate delle anticipazioni sulla pagina Facebook ufficiale. Lo spazio di discussione per i lettori è già aperto su Reddit. Che è tipo Facebook, ma senza quei cinquantenni che ti scrivono ciò bellissima, anche se hai la parpa. Quindi è meglio. Oggi la vita quotidiana è vissuta in simbiosi con un computer. Riprendi il controllo del tuo computer. Riprendi il controllo della vita. Passa a Linux Magazine. Riprendi il controllo della vita.